Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un scherzo episodio del Play4Win Inizio subito il video comprando Carmona A 350 crediti compra ora Un centrocampista abbastanza buono, con una buona velocità Metto subito in squadra Carmona Eccolo qua Che andrà a fare in tesa con destro E adesso andiamo a giocare la prima partita Questa è la squadra che affronterà il mio prossimo avversario Speriamo che non abbia una squadra tutta oro come nell'episodio precedente Amma mia non ci posso credere Vam persi eh, questa qua non ce la farò di sicuro Mamma mia Che vita Ci crediamo, forza futita Ammannaggia 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 Eh vaffanculo Sto stronzo Oh 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 Carmona Attenzione Carmona 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 Ammannaggia 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 Porca puttana Remida la minchia Torna da dove sei venuto Ecco qua la prima sconfitta 440 crediti comunque molto importanti che ci permetteranno di comprare qualcun altro Rieccoci con la prima partita che non è andata molto bene Allora decido di acquistare un difensore Perché continuando con la squadra Bronson si poteva continuare in difesa Compro Von Bergen che ha un prezzo molto basso 400 crediti, abbastanza veloce e un discreto difensore Decido di acquistare anche Perico un terzino destro del Cagliari d'Argento Che può sempre far bene là in difesa Questa è la squadra che utilizzerò per la seconda partita Si è un po' migliorata però è sempre molto scarsa Vediamo, vediamo Mamma mia Sto zitto che è meglio Prevedo un'altra sconfitta per la buttita Che controllo ti pensi? No E' vaffanculo Già male a zero No 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 Vai Carmona Crede No Solo non ci posso credere Carmona Ma porca troia, guardate le statistiche, il possesso mio ti rimporta a miele, ciao Maria proprio, ciao, ciao Pepe, ciao Pepe, ma vaffanculo, sto peruriano del cazzo, ecco, come lo fa, 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 impressionante. Seconda sconfitta di fila per la futita, è possibile vincere contro queste squadre, ho già provato, ma è davvero impossibile, 431 crediti faranno bene. Con i crediti guadagnati nella partita precedente, decido di acquistare floccari per completare almeno il reparto d'attacco, lo compro 450 crediti e compra ora. Ok, allora, l'episodio ragazzi termina qua, perché purtroppo, come vedete, tutta la sera ho i problemi con i server, che non va, ho provato a fare X, puoi riconnettermi, tutto questo per una decina di volte, ma nulla da fare. Allora, ci vediamo nel prossimo episodio, se il video vi è piaciuto, nonostante le due sconfitte, vi invito a lasciare un mi piace, se volete continuare a iscrivervi alla serie, iscrivetevi al canale, purtroppo per le due sconfitte è così, per le prime volte sarà così, perché tutti hanno squadre oro, vampersi, david silva, è così. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.